Siamo qui con Alessandro Donati che ci spiegherà come si cucinano gli arrosticicini. Buongiorno a tutti, d'altro c'è Matteotti, qui con Dario Andriotto, mio collega e grande amico. Il segreto è sicuramente avere un arrosticino di alta qualità, di ottima qualità, meglio di Europopili, non esiste. Poi avere un carbone ardente senza la fiamma sarebbe la cosa ideale per cuocere gli arrosticini ed avere un risultato ottimale per una bella serata o giornata di festa. La cottura deve essere fatta in quattro fasi, quindi il arrosticino come possiamo vedere è quadrato, quindi bisogna cuocere dal primo lato, poi girarlo, salarlo dove si è cotto e girarlo successivamente nel lato dove non si è cotto e successivamente nel lato dove non si è cotto ancora. Per cui deve essere una cottura uniforme per assaggiare il meglio di questo prodotto. Questo è l'arrosticino, dopo alcuni minuti si gira di questo lato, si sala, poi lo giriamo ancora, poi lo giriamo ancora e una volta aspettato il tempo di cui ha bisogno possiamo tirarlo fuori. Questo è un arrosticino cotto a puntino. Ecco, a differenza di questi che hanno un colore più rosato, cotto e mangiato. Mi raccomando, mangiarlo sempre molto caldo. Ottimo direi.